Presso la sede dell'ente Parco Nazionale del Pollino, venerdì 19 luglio, è stata presentata Naturarte, la tre giorni in programma tra Rotonda e Vigianello. Nell'iniziativa sono stati coinvolti quattro parchi lucani, Parco archeologico storico naturale delle Chiese Rupezzi del Materano, Parco di Gallipoli Cognato, Parco Nazionale dell'Appennino Lucano e l'APT Basilicata. Vicepresidente Fiori, Basilicata Naturarte, qual è lo spirito di questa iniziativa che mette in rete i parchi lucani? Promuovere la Basilicata, promuovere le aree naturali protette e cercare di creare sinergia per l'appunto fra i vari parchi. Abbiamo questo ente capofila che è il Parco della Murgia Materana e si sta organizzando in tutto il territorio questi momenti che vanno da percorsi escursionistici a percorsi gastronomici, allietati anche questi momenti da manifestazioni, spettacoli musicali, incontri scientifici con personaggi di alto rilievo, proprio per cercare di mettere in evidenza quali sono le tipicità delle nostre aree e dei nostri territori, chiaramente diversificate le tipicità nei vari parchi di Basilicata, ma per cercare poi attraverso una conoscenza adeguata di promuovere queste nostre aree. Lo spirito è quello in effetti di richiamare presenze turistiche nei territori di tutti i parchi e noi diciamo in modo particolare nel territorio del Parco del Pollino. Venerdì 19 luglio a Rotonda sono state allestite mostre e spettacoli mercatini, oltre a essere visitabili ai musei di paleontologia. Sabato 20 luglio piano di Visitone e Vigianello ha ospitato il concerto all'alba del duo Girotto-Biondini e la passeggiata trekking da Cozzo Minichetti a Cozzo Visitone. Abbiamo avuto presenze adeguate negli eventi che si sono stati organizzati nel comune di San Severino Lucano nel mese di giugno e da quei momenti di incontro comincia a scaturirne anche la fruizione turistica della nostra area. Nel pomeriggio si è svolto invece a Piano Ruggio l'incontro sulla biodiversità. Infine domenica 21 luglio presso la sede dell'Ellente Parco a Rotonda si è tenuto il laboratorio a cura del CEAS. Il cielo è di tutti gli occhi. Naturarte continuerà poi anche in altri luoghi del Parco del Pollino dopo il primo evento che si è svolto a San Severino Lucano. Sempre con la stessa impostazione certamente. Nel primo agosto avremo un altro evento in Val Sarmenta, in quel caso il filo conduttore sarà i luoghi della tradizione e avremo altri artisti, altri esperti, diciamo anche scienziati e studiosi della materia che in questo evento daranno, diciamo così, lustro all'argomento che ci interessa dal punto di vista delle tradizioni.